240 concorsi e una giuria di 120 elementi tra i massimi esperti della floricoltura italiana e straniera. Euroflora è stata l'occasione per premiare le eccellenze del settore, una sorta di olimpia di verdi con un monte premi complessivo di 130 mila euro. Composizioni e allestimenti in mostra ai parchi di nervi sono stati suddivisi in concorsi tecnici ed estetici. Per la giuria è stato un lavoro molto complesso perché i lotti da giudicare sono stati molti perché c'erano parecchi espositori e ogni espositore si è iscritto a parecchi concorsi quindi i lotti da giudicare sono stati almeno mille, mille e cinquecento. Primo posto assoluto per i vivai Castagno di San Maurizio Canavese, secondi i vivai Maggi di Bogliasco, terzo piazzamento per la collettiva della regione Liguria. Abbiamo dagli olivi secolari normalissimi che abbiamo qui a fianco oppure questi olivi tagliati a terrazze, potate a terrazze che sono molto particolari, in un giardino pulito fanno sicuramente una gran scena, un grande effetto e poi abbiamo tantissime piante dalla stagionale a piante perenni, arbusti, cicas, melograni. Ha attirato curiosi anche il concorso Meraviglia nei Parchi, progetti di professionisti a metà tra architettura e paesaggio ai quali è stata dedicata un'area estesa. Primo posto per presenze impalpabili che ha messo al centro una struttura in pannelli metallici dove ciascuno può avere un punto di vista personale privilegiato sui fiori, le piante o il parco stesso. Il visitatore si può appunto accucciare e avere un cannocchiale possiamo dire, proprio un obiettivo concentrato su dei piccoli focus dalla pianta al basamento in corten appunto anche lo sfondo dei parchi o semplicemente la statua o il visitatore che invece è entrato.